Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti così numerosi a questo incontro che non si presenta banalissimo, dato il tema che affrontiamo e forse proprio per questo ha un interesse che sta a mezzo tra la curiosità, la diffidenza, la paura, immagino, di alcuni. L'ostilità e forse invece un minimo di curioso entusiasmo. Vediamo un po' chi di noi ha ragione a temere o a entusiasmarsi o a essere lievemente sospettosi nei confronti di un tema dietro al quale si colloca una realtà ormai ampiamente diffusa, che è ampiamente diffusa nel dibattito. Pensate, l'avrete sicuramente testato voi stessi per primi, ci sono 1.330.000 su internet relativamente al termine intelligenza artificiale. In questi giorni si sta tenendo la Digital Week a Milano, in cui l'amministratrice delegata italiana di Microsoft, di cui non ricordo il nome, mi scuso, sostiene che l'intelligenza artificiale stia trasformandosi in uno strumento di democratizzazione, probabilmente perché può consentire ai cittadini una interfaccia più facile, più semplice, a informazioni, all'accesso a servizi e per i cittadini più evoluti e più intimi con attività di business, l'accesso a sistemi che rinforzano attraverso le tecnologie appunto sistemi di business e così via. Buonasera a tutti. Allora, che cos'è l'intelligenza artificiale e perché parliamo di questa? Secondo me, oltre a essere qualcosa che attiene strettamente appunto al mondo del software e dell'innovazione tecnologica, attiene anche a qualcosa che è molto più vicina alla fantasia sia positiva che negativa dell'umanità. Mi ricorda l'idea che si possano creare macchine che interpretano il nostro pensiero e eseguono i nostri ordini pur diventando non più potenti di noi ma restando schiave dell'uomo. Mi ricorda un po' la figura del golem che, come sapete, ha quei 600 anni circa di... no, 500 anni e passa di vita, cioè la figura di un essere che ubbidisce ai nostri ordini avendo poteri incredibilmente superiori a quelli che ciascuno di noi possiede. Se vogliamo ricorda anche un po' la creatura o la cosa, come si chiamava, di Frankenstein, no? Qualche cosa di creato da noi con poteri e intelligenza relativa, tra l'altro con un tipo di intelligenza che fa parte di quelle tipologie di intelligenza che non sono ancora, secondo me, se l'ho capito bene, ma ce lo spiegherete, attinenti ai manufatti di intelligenza artificiale, una intelligenza relazionale, sociale, che credo che ancora le macchine non riescano a possedere, ma vediamo, no? Allora, io la smetto perché non sono intitolata a parlare di un tema che conosco pochissimo e sono curiosa di sentirne parlare, chi più di me ne sa. Incominciamo a presentare Dario De Iaco, che è stato uno degli attori delle sperimentazioni attorno alle innovazioni tecnologiche più vicine all'intelligenza artificiale, quando lavorava al CSI all'interno del gruppo di Gallino e che quindi ha un'esperienza che non è quella del Golem, ma è un'esperienza consolidata. Sempre al CSI lavora, lavora tuttora se ricordo bene, l'ingegnere Barbero che ci racconterà probabilmente le evoluzioni che in quell'ambito e in altri ambiti stanno avendo le ricerche nel campo. Il professor Terna è uno studioso dei temi di innovazione che impattano sull'ambiente economico. Il dottor Busto lavora nel campo dell'intelligenza artificiale, produce oggetti che si avvalgono di tecnologie di questo genere. Quindi io lascerei finalmente la parola a Dario De Iaco per introdurre il tema. Mi dicono dalla regia che se avete la pazienza di alzarvi in piedi, forse dal fondo vi si vede. A me non mi si vede, ma non ha molta importanza. Dai. Anche se fossi in piedi, intendo. Allora, tenterò di alzarmi in piedi così. Mi assumo la responsabilità di quel che dico, mi vedete in faccia. Io non farò una lezione su che cos'è l'intelligenza artificiale, perché credo che sia fuori luogo in questo momento, ma racconterò un'esperienza che alcuni di voi già conoscono, probabilmente o la ricordano, che è stata fatta a Torino all'inizio degli anni Ottanta. Il laboratorio di intelligenza artificiale del CSI Piemonte, nato per spinta del professor Luciano Gallino, se vi ricordate, che allora era presidente del Comitato Scientifico del CSI, in accordo con l'assessorato al lavoro, non a caso con l'assessorato al lavoro, della regione Piemonte, che finanziò i primi due anni di attività del laboratorio stesso. Il laboratorio nacque per intanto costruire un gruppo che studiasse un po' sulle cose, e questo tipo di attività, cioè di autoformazione, si è sviluppata abbastanza a lungo e ha partecipato molta gente, perché l'iniziativa era quella di moltiplicare le esperienze facendo in modo di coinvolgere software house, non necessariamente solo il CSI, c'erano parecchi che giravano, molti dipartimenti universitari, la cosa nacque col Dipartimento di Informatica in particolare, ma ci furono delle collaborazioni col Dipartimento di Automatica del Politecnico, e poi ci fu una presenza notevole di tutta una serie di professori che per loro interesse venivano o a far tesi, o a sentire, o a esercitarsi presso di noi. Anche il professor Terna, se non mi ricordo male, faceva certe tesi usando tecniche l'ISP per l'analisi di bilanci, delle cose sofisticatissime. I bilanci non si analizzavano lo stesso, ma le tecniche erano molto interessanti. Poi però tentammo anche di mettere in pratica le cose che stavamo studiando con una serie di progetti concreti, e il tentativo era relativo ad alcuni filoni che poi sono diventati relativamente famosi. Io uso una terminologia che però è di 30 anni fa, quindi mi perdonerete se ogni tanto magari dico delle cose antiche come sistema esperto, per esempio, che non si usa più, e che però, come termine, era una delle iniziative più vicine alla concretezza. Complicato da mettere in piedi, in qualche caso ha persino funzionato, su una serie di argomenti più o meno complessi, dalla pianificazione del volo degli aeroplani all'organizzazione degli orari, su cui non riuscimmo a concludere poi un granché, né gli orari scolastici né tantomeno gli orari della GTT, che sono una cosa sofisticatissima da mettere in piedi, non ci vuole l'intelligenza artificiale, ci vogliono molte ore di molte menti e trattative, perché poi molte cose si fanno non soltanto con operazioni completamente razionali, che sono automatizzabili in qualche modo quasi sempre, ma si fanno anche con delle operazioni che sono la maggior parte delle nostre attività non consce, che sono quelle che ci permettono poi di affrontare i problemi e di decidere su come funziona un decisore, e non entrerò perché è un argomento gigantesco di cui si sono occupati altri, credo anche in termini di studi economici. Un altro argomento era per esempio l'elaborazione del linguaggio naturale, anche qui ci sono state poi delle ricadute interessanti, non per la nostra attività in particolare, ma per quel tipo di specializzazione, soprattutto sulla parte che riguarda le interfacce di accesso ai database, agli archivi. Google, che vi interpreta la frase, si fa per dire perché dice di avere un grande meccanismo di intelligenza sotto, in realtà non è poi tanto vero, è statistica raffinata, ma è statistica, non è molto di più, che mette in relazione termini esattamente come faceva il tesauro su della Corte di Cassazione nel 1975, ci ho lavorato, avevano fatto un lavoro splendido, oggi si chiamerebbe machine learning, allora si chiamava tesaurus, ma il concetto è esattamente quello, cioè il calcolo probabilistico di relazioni fra termini che permetteva per esempio di distinguere il termine pensione se usato come sinonimo di albergo o di cesazione del rapporto di lavoro. Sofisticata distinzione che però in un contesto si riusciva a fare abbastanza facilmente, in un contesto specifico e limitato, perché appena il contesto si allarga un po', l'elaborazione del linguaggio non porta grandissimi risultati. Con contesti specifici e con strutture definite, per esempio nelle traduzioni dal tedesco in inglese, qualche risultato si riesce a ottenere, ma appena si esce da forme molto strutturate, i risultati sono ancora abbastanza lontani per adesso. E poi facevamo anche un'esperienza di tentare di portare tecniche di programmazione logica all'interno della gestione della pubblica amministrazione, pensando che la gestione della pubblica amministrazione fosse basata sostanzialmente non soltanto sulla legge, ma sulla legge come sistema, cioè sulla razionalità fatta persona, si fa per dire naturalmente. Vabbè, questa era un'illusione di gioventù, sono d'accordo, però il tentativo fu un tentativo serio di formalizzare dei meccanismi interni e si vide che certi passi si potevano fare. Si potevano fare, poi noi facciamo un piccolo esperimento, un piccolo, insomma un esperimento significativo basato sulla programmazione logica, che io sappia non sia andati molto avanti però, perché il problema di fondo degli iter della pubblica amministrazione è che la pubblica amministrazione non li vuole cambiare per niente, per cui il problema non è se ci metti o no l'intelligenza artificiale, il problema è se vuoi affrontare o no il problema, questo poi è la questione, sostanzialmente. Eravamo un gruppo relativamente piccolo, ma, ripeto, attorno al laboratorio c'erano decine di persone che interagivano, diciamo così, su argomenti vari. Abbiamo seguito una certa quantità di tesi di laurea, per cui ci siamo sbizzarriti anche su molti argomenti interessanti, sulle reti neuronali in particolare, avevamo fatto una cosa con il Dipartimento di Fisiologia dell'Università, perché c'erano degli aspetti molto interessanti su quel tipo di tecnica, che era una tecnica di cui si cominciava a parlare allora, sostanzialmente, parlo della metà degli anni Ottanta, insomma, in Italia almeno, perché è quella che adesso, sempre sotto machine learning, va abbastanza per la maggiore, perché è una tecnica che permette di non affrontare in termini algoritmici un problema, ma di costruire una specie di scatola nera che permetta di, come dire, affrontare dei problemi molto limitati con grande efficienza. In effetti, per alcune cose, riuscimmo a costruire, per esempio, un piccolo sistema che serviva all'interno del centro di calcolo per monitorare il calcolatore, il mainframe stesso, che serviva a controllare l'andamento del CX, per chi si ricorda che cos'era il CX, ma, insomma, comunque, era un sistema che permetteva di seguire predicendo l'andamento, quindi predicendo le cadute del calcolatore, sostanzialmente. Una cosina molto piccola, ma estremamente efficiente, perché è molto specialistica. È un sistema che aveva delle caratteristiche interessanti, che erano la capacità, tra l'altra parentesi, io uso il termine neuronale, non neurale, perché con neuronale intendo le simulazioni fatte con un calcolatore, il termine neurale riguarda il cervello umano, che è tutt'altra cosa. Qui parliamo di simulazioni, di quello che crediamo essere parte funzionante del cervello umano, ma crediamo che alcuni sostengono essere parte del cervello umano. Allora, una cosa interessante di quel meccanismo è per esempio la ridondanza. Per fare delle misure su questo facemmo tutta una serie di esperimenti con i fisiologi in particolare. Ma, vabbè, questi sono poi i dettagli che sono relativamente poco interessanti. Un'altra tecnica che usavamo per stimolare i gruppi era quella di provocare, tecnica che io spero qualcuno continui a utilizzare, ma che allora funzionava benissimo, è quella di provocare l'intelligenza delle persone, perché poi questo è l'unico vero meccanismo di apprendimento, chiedendo che partecipassero ai convegni o ai congressi, non come ascoltatori, certo, come ascoltatori uno va e impara, va a scuola, naturalmente, ma tentando di proporre degli argomenti, delle relazioni, cioè, perché se qualcuno ti ha accettato il paper, vuol dire che hai aggiudicato che la tua idea era buona. Non sono quindi io solo a pensarlo, ma anche altri. Con questo meccanismo, sia in termini europei, sia a livello internazionale, partecipavamo a tutta una serie di convegni, l'IJK in particolare. Altro passaggio, le aziende con cui lavorammo in quegli anni, erano sostanzialmente alcune grandi aziende torinesi, in particolare l'Aeritalia, gruppo per ieri da combattimento, adesso si chiama Alenia, che fece un'esperienza con noi e che poi, col nostro aiuto, si costruì al suo interno un gruppo che si occupava di intelligenze artificiali. C'erano problemi di NOS e problemi di argomenti che non potevano uscire dall'addentro, quindi se lo strutturarono da sé, forse anche un po' per invidia con la Boeing, che ce l'aveva già, io questo non lo so, però comunque lo fecero. Il gruppo non piccolo che riuscì a fare delle operazioni interessanti. Poi lavorammo con il GFT, il gruppo finanziario Tessi, ve lo ricordate, c'era allora, e facemmo qualche sperimentazione interessante, in particolare sulla vestibilità, se non mi ricordo male, cioè su tutta una serie di argomenti che l'informatica pesante, come la chiamavano i miei colleghi un po' invidiosi, che sono quelli che poi hanno fatto da frenatori su quasi tutto, l'informatica pesante non riusciva ad affrontarla, perché in termini di database la vestibilità non ha senso. Ha senso quando ricerca di modellizzare l'esperienza di una persona, se è in grado di descriverla e se è in grado di descriverla in modo che possa essere strutturata e formalizzata. Questo era poi il lavoro vero sostanzialmente, quello di trasformare una descrizione, una descrizione di competenze in oggetti, in simboli che un calcolatore potesse manipolare, non comprendere, perché la comprensione è tutt'altra questione, ma manipolare in modo da trarne qualche risultato. In alcuni casi riuscimmo a fare delle cose abbastanza interessanti. C'è a Tcavi, anche lì fu un'esperienza breve ma molto interessante, perché poi alla fine venne fuori, io mi scuso con gli ingegneri presenti, venne fuori che il lavoro che facevano squadre di ingegneri per settimane sulle linee di montaggio si risolvevano in pochi minuti con una tabella alla fine che era una tabella Excel, diciamo la verità, e con delle percentuali anche un po' grossolane, perché oltre un certo livello di precisione, francamente, è interessante dal punto di vista professionale, ma completamente inutile dal punto di vista del business comune. Poi anche col centro di ricerca Fiat tentavamo di fare delle cose e loro si occupavano in particolare di elaborazione del linguaggio. Credo che il centro di ricerca Fiat come molti altri paesi della Fiat a un certo punto sia finito e quindi quel tipo di attività se ne è ancora un pezzettino, ma se ne è appunto. quel tipo di attività però non ne ho più sentito di nessun tipo. Per arrivare all'argomento e cercare di chiudere questa specie di introduzione, che effetti ha avuto il lavoro che facevamo in quegli anni, prima di studio e poi di sperimentazione? Beh, non è che abbia avuto degli effetti in termini numerici significativi, a parte Alenia che si strutturò al suo interno, il GFT che si strutturò con cose sue non di intelligenza artificiale ma che comunque si affrontarono una serie di problemi. Ovviamente l'università continuò tranquillamente con i piedi suoi. La cosa interessante è che molte delle cose che adesso sono ovvie dal punto di vista tecnologico in senso relativamente stretto sono nate in ambito intelligenza artificiale. Banale, il mouse oppure il windowing, il sistema finestre. Il sistema finestre nacque perché è importante che io mentre sto eseguendo un certo programma lo possa osservare dall'interno. Come faccio a osservarlo? se lui sta lavorando su quello schermo. Apro un altro schermo ovviamente, banale, banale adesso che si fa. Allora era un pochino più complicato. Con discussioni anche abbastanza fuoribonde fra i mouse a due tasti a tre tasti a un tasto delle cose che poi alla fine sono diventate strumenti normali perché sono stati inglobati nei meccanismi di sviluppo rapido che l'industria informatica per prima ha cominciato a sviluppare per se stessa sostanzialmente. Come la programmazione oggetti tanto per dirne un'altra come il networking che poi è diventato quello che è diventato voglio dire che nasce nell'ambito delle applicazioni dell'ARPA e nasce per un problema sostanzialmente di suddivisione di potenza di calcolo. La nostra prima rete internet non c'era la nostra prima rete si chiamava ChaosNet ed era la rete fra le machine poi alla fine noi ne avevamo un paio insomma le reti neuronali dicevo e poi ovviamente lo sviluppo dell'hardware che ha portato oggi ad avere una disponibilità di capacità di calcolo spaventosamente alta il che permette di fare delle cose in termini molto più interessanti che una volta concettualmente dico una cosa tanto per cercare di spiegare il mio concetto se pensate a un ipertesto vecchio concetto ma insomma internet c'è ancora un ipertesto è alla fine un indice analitico rispetto a un universo di documenti l'enciclopedia di D'Alembert di Diderot l'indice analitico ce l'aveva ma non poteva mettere in piedi seriamente un meccanismo ipertestuale perché non c'erano strumenti che permettessero una fruizione secondo i nostri tempi di fruizione cosa che invece con un calcolatore saltando di palo in frasca secondo quello che ci viene in mente si può fare molto più facilmente allora qual è il grande balzo che ha fatto l'informatica non quella pesante che sta ancora lì con i database il grande balzo è quello che è stato lo sviluppo di interfacce uomo-macchina che di nuovo vengono dalle necessità dell'intelligenza artificiale adeguate alle capacità dell'utente sostanzialmente è la scoperta dell'utente perché gli informatici prima e molti ancora adesso non lavorano per gli utenti lavorano per fare bene i sistemi che poi ci sia qualcuno che li usi o che faccia fatica a usarli di questo non importa assolutamente a nessuno sono stato oggetto vittima di un incidente di questo genere alcune sere fa quando ho combattuto non io per intersposta persona con il sistema informativo dell'ospedale Gradenigo il quale è stato ingannato da due terminali che contemporaneamente cercavano di fare delle cose perché aveva assunto una sua iniziativa ed è un baco che conoscono da dieci anni e quindi il dottore e l'infermiera si sono dovuti combattere fra di loro e col sistema per mettere a posto le cose alla faccia delle interfacce voglio dire allora l'effetto di questo tipo di sviluppo ha permesso di affrontare anche una serie di problemi interessanti perché più interessanti per gli umani ma anche perché poi alla fine il costo di produzione di certi oggetti è diventato un costo effettivamente abbastanza marginale adesso io non voglio entrare in argomenti non miei però voglio dire il telefonino che c'è in tasca è potente di più del mainframe che usavo quando ho cominciato a lavorare e ce l'abbiamo tutti in tasca e questa cosa funziona tranquillamente l'energia che viene consumata dall'informatica a livello mondiale me lo dicevano ieri sera con dei numeri interessanti l'energia elettrica che viene usata per far funzionare i centri di calcolo è circa il 17% di quello che viene consumato all'interno del mondo voglio dire regiamo ancora tutto sommato la maggior parte di questa energia però serve per il raffreddamento dei calcolatori conseguenza Google apre in Finlandia perché lì apri la finestra e raffreddi la sala server sostanzialmente allora quello che tentammo di fare allora fu di costruirci un'esperienza per capire quanto queste cose erano effettivamente utilizzabili ed era interessante utilizzarli interessante anche dal punto di vista non soltanto di quelli che lo sviluppano che si divertono che ovviamente ci sviluppavamo e ci divertivamo ma anche per chi poi debba usare quel tipo di tecnologia io credo che siamo in una fase in cui la tecnologia è diventata più solida ma è ancora molto promettente ma con relativamente poche applicazioni al di là di alcune cose che si chiamano intelligenza artificiale ma credo che sia più un'operazione marketing che un'operazione di identificazione di oggetti intelligenti una sola parola su un equivoco che vorrei sgombrare perché io sono della vecchia guardia quindi uso terminologia vecchia ma anche probabilmente neuroni non anziani non troppo giovani il big data di cui si parla tanto che è come dire uno dei motori principali che è una buona idea perché se io riesco ad affrontare un problema rivedendone dall'interno come si è comportato in tante situazioni ragazzi faccio un bel salto avanti e che però non fatevi tante illusioni gli archivi informatici attualmente che ci sono attualmente in giro che non siano costruiti appositamente come le domande di Google che è poi il file storico della corte di Cassazione nel 1975 gli archivi informatici sono particolarmente poco strutturati il database administrator che era un mestiere specifico nel campo informatico era una delle specializzazioni più tristi perché diventavi lo zimbello di tutti i programmatori diventavi il rompicoglioni sostanzialmente quello che ti costringeva a scrivere la documentazione quello che ti diceva se fai una tabella devi farla così con le descrizioni se non fai le descrizioni i dati non esistono non è vero i dati esistono lo stesso ma se non fai le descrizioni che cosa significano quei dati non lo sai e non c'è nessuna intelligenza che se la va a cercare e la fa derivare perché neanche gli umani ci riescono che di intelligenza ne mettono tante assieme tante e anche di tipo diverso non soltanto razionale quando si tratta poi di affrontare un problema complicato io mi fermerei qui perché non voglio come dire tendere più che tanto una bella esperienza fatta a Torino comunque c'è stata negli anni passati grazie pensavo di chiedere all'ingegner Barbero che cosa è successo nel frattempo negli ultimi diciamo lustri benissimo cerchiamo appunto di capire se il relativo pessimismo di De Iaco è compensato dal potenziale relativo ottimismo dell'ingegner Barbero sì il primo passaggio è un tributo Dario perché questo è il simbolo del laboratorio dell'intelligenza artificiale e poi invece volevo riprendere giusto come prima slide anche il primo progetto che facemmo a Ritalia gruppo obiettivo della difesa un sistema esperto appunto che si chiamava frutto del progetto QTES Cutting Tool Expert System il tema era la lavorazione delle strutture degli aerei che doveva essere un materiale molto delicato costoso era da trattare con degli strumenti di taglio in modo molto accurato selezionare le tipologie di frese che si utilizzavano la profondità la velocità di taglio e i lubrificanti queste informazioni venivano conosciute solo da due persone in Ritalia e queste due persone avevano in prospettiva un evento importante andare in pensione e facemmo e quindi su commissione di Ritalia questo sistema esperto quindi con tecnologie abbastanza primordiali rispetto alle tecnologie che ci sono oggi e gli algoritmi che ci sono oggi ma comunque riuscimmo a catturare la conoscenza che era contenuta in queste due persone attraverso definizione di regole che testammo per verificare un po' il modello e riuscimmo in qualche modo a non tanto creare una macchina intelligente ma a recuperare la conoscenza e poterla trasferire ai successori nella pubblica amministrazione ci si sta muovendo al netto delle esperienze molto locali volevo riportare sostanzialmente due passaggi significativi secondo me non da capire se sono frutti dell'AIP che c'è in questo momento sul tema dell'intelligenza artificiale o no il primo è il manifesto del team di trasformazione digitale il team che come sapete è stato selezionato e voluto dal Consiglio dei Ministri con a capo Diego Piacentini numero 2 o 3 di Amazon in distacco e tra i punti citati del manifesto traccia evidentemente un punto importante cioè ricercare in tutte le occasioni possibili l'utilizzo di tecniche di machine learning dell'intelligenza artificiale in parallelo l'agenzia per la digitalizzazione l'agid ha lanciato sostanzialmente una task force per l'intelligenza artificiale un gruppo di 30 esperti selezionati che ha questo obiettivo di studiare e di dare delle linee guida di verificare l'impatto sui modelli di lavoro e i rischi che si occorrono nell'utilizzo di queste tecniche sta producendo in consultazione in questi giorni un primo white paper che dovrebbe declinare un po' i ragionamenti e gli ambiti e l'applicazione sostanzialmente di queste tecniche nel contesto della pubblica amministrazione i campi di applicazione nel nostro settore sono ampi evidentemente sono ampi perché la stessa pubblica amministrazione tratta tematiche molto diverse tra di loro mi sembra che i primi due punti sono effettivamente quelli su cui si potrebbe maggiormente sfruttare queste tecniche il primo nel miglioramento complessivo dell'organizzazione del lavoro dell'efficientamento della macchina produttiva il secondo come dicevamo prima anche nella migliorare la relazione tra il cittadino stesso e il sistema informatico questi sono altri esempi di campi di applicazione che dove e dei casi non sono evidentemente esaustive dove potremmo trovare applicazioni di queste tecniche una domanda c'è dietro tutto questo non ci troviamo forse di nuovo a quello che viene denominato l'inverno dell'intelligenza artificiale nei periodi nei 30-40 anni di studio e di applicazione di queste tecniche ci sono stati momenti di eccitazione di disilluzione rispetto a queste tecniche l'abbiamo subito anche noi allora dopo dopo qualche anno di esperienza nel laboratorio di intelligenza artificiale siamo di nuovo in queste condizioni o forse c'è qualcosa di diverso un po' di ottimismo mi viene da dire che c'è nel senso perché ci sono degli elementi degli elementi alla base che sono probabilmente determinanti il primo sono i dati lo dicevamo prima Dario i dati sono in continua crescita non devo dirlo io e sono in crescita per questo fenomeno quindi tutti i soggetti le cose le persone i sistemi sono collegati parlano si scambiano dati e e producono e producono informazioni anzi producono beat by poi c'è il tema che sollevava Dario i dati secondo noi sono la fonte la base di tutto perché senza i dati che sono diciamo l'alimentazione con cui questi algoritmi di intelligenza artificiale si cibano non riusciamo a essere così efficaci nell'azione e di contro senza l'intelligenza artificiale non riusciremo a tendere a dominare questo fenomeno perché non sarà impossibile con tecniche tradizionali e con l'intervento umano di dominare un fenomeno di volumi di tipologia di teore di genetà dei dati disponibili anche il sistema informativo regionale pubblico ha molti dati dati di tipo strutturato e non destrutturato pensiamo ad esempio a tutti quei percorsi che producono documenti frutto di trasformazione a partire dalla carta attraverso processi di materializzazione produciamo documenti informatici che contengono informazioni di valore o come le reti sensoriali del territorio derivate ad esempio dal monitoraggio ambientale tutti questi sistemi producono dati sempre crescenti ci vuole una macchina per dominare questo fenomeno e come dicevamo prima anche chiacchierando con Dario i dati di per sé devono essere curati devono essere trattati devono essere arricchiti semanticamente per essere in qualche modo poi utilizzati efficacemente attraverso gli algoritmi come ci stiamo volendo ci stiamo dotando di queste tecnologie CS Piemonte su richiesta di Regione Piemonte abbiamo costruito una piattaforma che si chiama Iucca che è proprio una piattaforma che è volta a catturare integrare i dati arricchirli trattarli e mettere a disposizione sulla quale andremo a diciamo costruire le tecniche più avanzate di intelligenza lanciata nel 2015 è già operativa da molto tempo ha già accumulato questa diciamo una foto che ricorda un'immagine che ricorda l'attuale disponibilità ci sono 700 e passa milioni di dati di record all'interno della piattaforma di varia natura organizzate secondo le principali tassonomie tipiche della pubblica amministrazione oltre ai dati ci sono secondo a nostro avviso ma credo che sia opinione comune altri due elementi determinanti che ci danno ottimismo rispetto alle possibilità di intelligenza artificiale tecniche avanzate algoritmi nuova generazione ad esempio quelle legate al deep learning capacità computazionale crescente di varia natura quasi di capacità infinita ma aggiungerei ancora due aspetti che secondo noi sono determinanti sono importanti uno la commoditazione di queste di queste librerie di queste componenti che sono mai facili da ritrovare sono di valore perché sono prodotte in genere dai grossi player che vengono messi a disposizione in logica open source queste permettono di accelerare l'utilizzo di queste tecniche in modo molto pratico efficace e con la stessa tipologia la disponibilità di servizi in logica cloud di cognitivi di intelligenza artificiale di nuovo che mettono insieme algoritmi e capacità computazionale attraverso delle forme di integrazione molto moderne molto facili da realizzare tipicamente API in realtà questo sembrerebbe facilitare e rendere basso il livello di accesso a queste tecniche non dobbiamo scadarci che in realtà gli approcci che tratta la tecnologia le metodologie dell'intelligenza artificiale non sono così banali quindi la capacità umana di trattarli è comunque importante questa è la vista insieme quindi all'interno del CSI ci stiamo arricchendo on top di questa piattaforma dati una serie di strumenti che sono molto in evoluzione in continuo cambiamento perché le dinamiche sono molto molto forti di librerie di framework e di servizi disponibili in logica cloud un veloce passaggio rispetto a quello che stiamo facendo che abbiamo preso di recente perché appunto abbiamo coltivato questo periodo tanti anni fa c'è stato l'inverno dell'intelligenza artificiale che ha toccato anche ovviamente il consorzio recentemente c'è stata una ripresa perché vediamo delle opportunità importanti alcune esperienze fatte nell'ultimo periodo legate all'interfaccia conversazionale cosa sono le interfacce conversazionali sono modelli di interazione tra l'uomo e la macchina quindi tra un essere umano e un sistema informatico un agente che emulano sostanzialmente la conversazione che hanno due esseri umani quindi una relazione molto più naturale molto più spontanea più proattiva rispetto all'interazione tipica con i sistemi che dal nostro punto di vista può aprire ampiamente l'utilizzo dei servizi digitali che vengono realizzati a settori e a individui molto diversi tra di loro pensiamo ad esempio un nativo digitale che è abituato sostanzialmente a conversare attraverso una chat attraverso un sistema di messaging che però ha una relazione di conversazionale con il sistema e nello stesso modo la possibilità di approcciare attraverso diciamo una voce un accesso ai servizi digitali questo è solo uno schema che recupera alcuni concetti al centro il chat pod che è appunto una fusione una parola che mette insieme il concetto di robot con il tema della conversazione e questa slide era solo per enfatizzare il fatto che servono molte tecniche di intelligenza artificiale gli algoritmi per poter implementare questi paradigmi perché è necessario analizzare il testo tradurre comprendere appunto il linguaggio naturale determinare qual è l'intento che c'è nella richiesta osservare il contesto complessivo predisporre la risposta o delle azioni particolari sul piano poi tecnico non entro nel dettaglio evidentemente ci sono altri aspetti legati a queste modalità di interazione velocemente vi passo ad alcuni esempi che abbiamo portato avanti sono alcune sperimentazioni e altri casi che sono un pochino più significative la prima l'assistente personale l'idea era quella di sperimentare la capacità la potenzialità che c'era nella tecnica di intelligenza artificiale per rimpiazzare e sostituire dei lavori molto complessi probabilmente ma di bassa significatività il tema era organizzare delle riunioni come potrebbe fare un assistente personale una persona a cui deleghiamo il compito abbiamo provato una tecnologia che permette di fare questo mestiere quindi delegando a un assistente virtuale in questo caso EMI che ci ha consentito di organizzare una riunione per noi mettendo insieme le esigenze di n persone per fissare un appuntamento quindi EMI ci sollecitava per richiederci le nostre disponibilità operando in un modo conversazionale quindi non ci si poteva non potevamo comprendere se dall'altra parte c'era un attore umano o no il risultato di questo è che ci ha confermato che determinati lavori possono essere portati avanti in questo modo con queste tecniche addirittura non comprendendo se dall'altra parte abbiamo un essere umano o meno il seconda esperienza che vorrei citare è un prodotto è un sistema che abbiamo in produzione riguarda Edisu quindi diciamo l'agenzia per il diritto allo studio universitario il problema era il tema era legato al supporto agli studenti che in determinati fasi dell'anno hanno bisogno di accedere ai servizi di Edisu quindi fanno richieste spesso queste richieste sono numerose sono urgenti e che riguardano tipicamente l'accesso alle borse di studio o al servizio abitativo quindi che possono fare uso abbiamo implementato un chatbot che permette sostanzialmente di gestire in modo automatico ma con un'interfaccia naturale conversazionale come se fosse un operatore di servizio e abbiamo attivato questo servizio da ormai qualche mese con discreti risultati e molti punti di attenzione tra questi la necessità di trasformare e quindi in qualche modo riempiegare l'operatore in un ruolo di addestratore di coaching dell'automa stesso quindi in back office c'è molto lavoro per addestrare e per affinare il il diciamo il risultato e le performance del chatbot stesso ultimo esempio che volevo citare ancora un sistema di interazione conversazionale legato alle misure anti-smog che qualche mese fa la città di Torino ha dovuto attivare ancora un'interfaccia conversazionale che permette dialogando con il sistema di avere indicazioni rispetto l'accesso alla città a seconda del tipo di carburante in particolare il trattamento di dati personali se dobbiamo profilare avere un'interazione significativa dobbiamo comprendere il profilo dell'utente e questo ovviamente ci pone alcune riflessioni rispetto alla persona l'altro tema è la trasparenza come dicevamo prima diceva giustamente Dario alcune delle nuove tecniche machine learning in qualche modo sono oscure nel senso sono un po' una macchina una black box non a fronte di alcuni input danno dei risultati anche eccellenti ma non sanno spiegare perché si è arrivato a quel risultato e in qualche modo per certi campi di applicazione è necessario spiegare la logica con cui si è passato da alcuni input a un risultato un'indicazione un suggerimento un'azione c'è tutta un fronte di studi che si chiama explain AI che tratta questi temi e sono secondo noi determinanti in alcuni campi è necessario operare in domini ristretti abbiamo visto sul campo che il nostro chatbot quando veniva stimolato nella conversazione con domande fuori contesto ad esempio non mi interessa solo sapere se è nella città di Torino perché c'è una misura anti-smog ma mi interessa sapere anche quanto riguarda la ZTL il chatbot andava un po' in confusione quindi è importante riuscire ad addestrare anche la capacità di riportare la conversazione sul tema specifico ci sembra che comunque l'attività umana in questo senso possa essere comunque integrata dall'uso di queste tecniche non sostituita probabilmente ma sicuramente integrata e vediamo in prospettiva invece l'adozione di alcune tecniche ad esempio la capacità di fare recommendation dei servizi anche non solo per fare e-commerce ma anche per veicolare i servizi in modo proattivo da parte della pubblica amministrazione e i cittadini stessi mi fermerei con tributo ebbene certo che il CSI da molti come dire che non lo conoscono trattato come un luogo dove il massimo della competenza non si coniuga con il massimo dell'efficienza è invece una grandiosa palestra per l'innovazione solo che ci sono problemi credo di relazioni con i committenti ma non entriamo in questo scivolosissimo territorio certamente è una grandiosa palestra di sperimentazione di supporto all'azione degli enti pubblici che la sanno o la possono utilizzare cerchiamo di capire che cosa succede invece in campo privato cosa fa un'azienda che opera nel campo dell'intelligenza artificiale come prodotto e come tecnologia di processo immagino chiediamo quindi al non so se dottor ingegner o signor che forse è la cosa migliore Enrico Busto della ADD4 di raccontarci che cos'è la sua azienda e che cosa fa in questo campo vi lasciamo caricare le slide sì sì si vede si alzi in piedi anche lei così certo certo allora Pietro Terna mi ha invitato a parlare qualche settimana fa Pietro Terna è il colpevole e visto che non sapevo bene quale sarebbe stata la platea e cosa dire normalmente io parlo degli aspetti tecnici della nostra azienda ci siamo incontrati una sera a cena e ho chiesto ma cosa vi aspettate che dica e mi è stato spiegato che uno dei sentimenti più forti relativo all'intelligenza artificiale è la paura di quello che potrebbe succedere e mi hanno detto è molto semplice il tuo compito devi far passare la paura e io ho chiesto ma come faccio e intanto comincio a raccontare che cosa fate voi da dove siete nati e i prodotti che create nella vostra azienda e allora ho pensato a questa presentazione che non è tipica per noi coinvolge di più l'aspetto umano e vi prego di apprezzare questo sforzo perché essendo un ingegnere ci ho messo qualche giorno a sviluppare la parte umana la prima è questa cercavo una prima slide per dare un'idea generale e forse questo è come ci sentiamo noi o come si sente un'azienda nei confronti di ciò che è sconosciuto e di ciò che verrà il bambino può essere visto come qualcuno che ha paura o può essere anche visto come qualcuno che guarda il futuro guarda lontano con curiosità stavo cercando un'immagine diversa questa mattina poi ho visto questa e mi ha ispirato ma come siamo come è nata l'azienda beh molto semplicemente se riesco a trovare l'azienda è nata quando la multinazionale americana per cui lavoravo nel 2010 mi ha licenziato e io mi sono trovato su un marciapiede col classico scatolone tre bambine piccole da mantenere quindi si può fare qualcosa con l'intelligenza artificiale di qui in poi è tutto buono sono tornato a casa ero un po' giù l'ho raccontato a mio papà e mio papà mi ha guardato mi ha detto guarda forse questa è la cosa migliore che ti poteva capitare ok grazie papà adesso devo capire un attimo come impostare la cosa dopo ho capito qual era il concetto perché il concetto che gli americani chiamano timing cioè arrivare in tempo sul mercato fare le cose nel momento giusto il nostro francesco lo cantava già nelle osterie di fuori porta negli anni 60 quando diceva bisogna saper scegliere in tempo non arrivarci per contrarietà quella cosa io l'avevo già l'avevo capita troppo tardi c'ero arrivato per contrarietà a fondare la società però almeno era stato un buon inizio quindi un inizio travagliato sapete adesso vi raccontano di start up venture capitalista eccetera eccetera ecco il nostro incubatore è stato un marciapiede di via Bertola e abbiamo creato questa azienda con un'idea in testa e cioè quella di selezionare e migliorare i migliori algoritmi scusate la ripetizione in intelligenza artificiale per creare prodotti innovativi e servizi divertendoci ogni parola qui ha un significato specifico per esempio selezionare e combinare è fondamentale perché noi ci trovavamo proprio in quegli anni in cui venivano messi a disposizione da Google Facebook Amazon e tutti gli altri delle cose che si chiamano framework cioè dei mattoncini fondamentali che servono a comporre queste cose open source con pochissime linee di codice si possono creare delle cose buone per creare prodotti innovativi e servizi per noi a volte facciamo dei prodotti per i nostri clienti ma soprattutto è importante l'ultima parte having fun è vero che certe volte alla fine del giorno siamo piuttosto stanchi però nessuno di voi di noi in Atfor ha voglia di lavorare abbiamo voglia di fare qualcosa che ci diverte fino adesso ci siamo riusciti abbiamo fondato l'azienda con certe visioni questa è una cosa che non riguarda tanto l'intelligenza artificiale ma la nostra azienda per spiegarvi come si può sopravvivere e ci si può muovere in un ambiente diciamo ostile per una giovane azienda come quello italiano la prima regola è questa nessun piano sopravvive al contatto col nemico quindi programmazione di quello che deve essere un piano ci deve essere un piano deve essere dinamico ogni piano deve essere rivisto messo in discussione e eventualmente cambiato ogni giorno non vuol dire che non si deve avere una visione a tre anni vuol dire che la visione a tre anni ci vuole ma siamo disposti a cambiarla domani se cambiano le condizioni altre cose importanti normalmente le aziende tendono a mantenere i propri segreti questo è un mondo in crescita estremamente veloce quindi conviene di più condividere che mantenere i segreti all'interno conviene di più scambiare le idee con le altre aziende questa è una regola fondamentale che adottano tutte le aziende che si occupano di intelligenza artificiale anche ad alto livello per esempio come dicevo prima Google Facebook e tutti gli altri mettono a disposizione i loro algoritmi open source ve li regalano in modo che voi li possiate utilizzare tutti li possono utilizzare sono manutenuti su Github ci sono da decine a centinaia di commit cioè di aggiornamenti del software ogni giorno per Google Facebook e tutti gli altri la parte importante sono i dati che invece non regalano ma gli algoritmi si possono prendere e si possono verticalizzare quindi si possono usare quegli algoritmi per fare delle cose diverse tecnologia proprio per questo motivo gli strumenti di base ci sono cioè la grande potenza computazionale la potenza di calcolo i processori sono a disposizione di tutti basta prenderli e combinarli in modo diverso anche facendo attenzione a spendere bene queste cose questo è un campo che tra l'altro rende molto bene cioè si guadagna molto bene facendo questo tipo di applicazione dopo vi do qualche esempio per noi questo è fondamentale perché visto che la tecnologia evolve molto rapidamente i ragazzi che lavorano con noi spendono circa il 40% del loro tempo a studiare non a produrre qualcosa 40% a studiare questa è quella che le aziende chiamano ricerca e sviluppo e noi investiamo molto qua non possiamo farne a meno perché se non lo facessimo tra qualche mese ciò che facciamo verrebbe superato da qualcun altro che lo fa meglio di noi e investiamo soprattutto in software open source non in licenza il concetto di licenza software è ormai un po' stantio un po' vecchio si lavora moltissimo con l'open source adesso anche dal punto di vista scientifico si lavora con open data per esempio buona parte di ciò che facciamo noi lo prendiamo da paper scientifici anche molto recenti ma noi per esempio non abbiamo nessun abbonamento ai tre poli i nostri paper arrivano da archive per esempio che è un un archivio di paper scientifici open source tanto per darvi un'idea si può vivere anche senza finanziamenti pubblici si può vivere anche senza avere degli investitori basta farci un po' attenzione e comportarsi come faceva mio nonno che il trattore lo comprava quando aveva i soldi in tasca ok quindi bisogna fare attenzione al cash flow questo è stato fondamentale soprattutto all'inizio perché all'inizio quando eravamo molto piccoli abbiamo scoperto che le banche sono quegli enti che cercano di darti soldi quando non hai più bisogno quando invece non hai bisogno ti danno proprio niente ti mandano via questo ci permette di investire quindi di prendere delle nuove persone quando ne abbiamo bisogno prendere delle nuove macchine e così via e ci permette di fare quella cosa che in Italia è diventato veramente poco diffusa cioè pagare i fornitori in tempo quando scadono le fatture i nostri ragazzi o i nostri ragazzi ecco questo adesso siamo in 14 fissi quindi con un contratto normale più in questo momento stanno sempre crescendo 7, 8 tra poco 10, 12 tesisti o ragazzi che collaborano dall'esterno più alcune aziende che collaborano con noi per progetti specifici allora la selezione dei ragazzi è estremamente difficile in questo momento perché le università non danno ancora tutta la preparazione necessaria però diciamo che su questo abbiamo puntato molto sin dall'inizio è stato un aspetto fondamentale e abbiamo puntato su questo in diversi modi intanto mantenendo la capacità di selezionare il personale all'interno tanto che non riusciamo a capire le aziende che non lo fanno e danno in outsourcing la selezione del personale le persone sono la parte fondamentale dell'azienda non ci sono altre cose importanti se non i brevetti per le grandi aziende ma fondamentalmente le persone sono la parte fondamentale allora cosa facciamo selezioniamo ascoltiamo abbiamo un processo di selezione che coinvolge praticamente tutti all'interno dell'azienda e poi soprattutto cerchiamo di impaurire molto i nostri ragazzi con una serie di domande e già sulla pagina del sito ci sono una serie di domande da paura per far capire che da noi si fa sul serio per esempio quando si viene a fare il colloquio da noi non ci si presenta in giacca e cravatta ma è necessario il computer e il computer si accende sempre durante il primo colloquio perché chi non scrive codice a meno che non abbia dei ruoli molto particolari non può entrare da noi cerchiamo per esempio i talenti e non cerchiamo tutte le skill perché gli skill non sono ancora disponibili però i talenti ci sono e questo cosa ci permette di avere ci permette questo è un piccolo gruppo non siamo tutti stavamo facendo una festa per quel ragazzo in mezzo più illuminato con meno capelli che si chiama Pedro che è l'unico ragazzo che negli ultimi tempi ci ha lasciato perché ha la ragazza che ha trovato lavoro in Inghilterra e quindi ha deciso di andare in Inghilterra però per darvi un'idea degli skill di Pedro ha fatto domanda per essere accettato nel dipartimento di computer science di Oxford e dopo due settimane gli hanno dato la conferma e l'hanno accettato quindi il nostro buon Pedro è partito per l'Inghilterra e gli altri sono ancora tutti con noi per esempio il ragazzo lì di fianco Steven è iniziato a lavorare da poco da noi da meno di un anno però ha già partecipato al convegno che abbiamo fatto con Intel ha dimostrato la programmazione dei processori Intel e così via cerchiamo di coinvolgere da subito i ragazzi sia verso i clienti sia nelle conferenze e soprattutto nello sviluppo del codice cerchiamo di anzi non cerchiamo ma da noi praticamente non esistono conflitti da noi la collaborazione è molto forte è molto delicata cioè si tende a non dar fastidio agli altri chiedendo di essere aiutati e la persona a cui viene richiesto l'aiuto è normalmente sempre disponibile a dare cominciamo a crescere abbiamo organizzato delle cose interessanti per esempio anche con l'aiuto dei nostri amici che ci hanno fornito i locali siamo riusciti a fare una cosa molto bella e significativa Intel è forse l'azienda che nei prossimi anni sarà più importante per quanto riguarda l'hardware legato all'intelligenza artificiale sono partiti i signori di Intel dalla California e sono venuti qui a Torino è stato un evento dove hanno partecipato molti dei nostri clienti i nostri clienti l'hanno saputo ecco diciamo che la comunità in Torinese e la stampa di questo forse non è ancora molto consapevole il giorno dopo c'è stato un piccolo articolo sul Corriere di Torino sono andato a leggerlo e poi molto speranzoso sono anche andato a vedere sulla stampa se per caso scrivevano qualcosa beh la stampa di noi non scriveva niente però aveva un ottimo articolo su come si faceva il ragù emiliano contro il ragù napoletano ok per contro invece la stampa riesce a scrivere degli articoli terroristici sull'intelligenza artificiale questa è una loro scelta allora cosa facciamo noi intanto una delle cose che abbiamo fatto dall'inizio è stato organizzare i meetup quando abbiamo cominciato a organizzarli noi in Italia li usavano solo i ragazzi dei 5 Stelle per motivi politici ma in realtà i meetup sono nati a San Francisco per scambiare idee su questioni tecnologiche allora abbiamo fatto partire il meetup con certe regole nel senso doveva essere scomodo doveva essere tecnico doveva essere quasi incomprensibile in modo che chi venisse al meetup fosse realmente interessato poi dopo ci siamo ammorbiditi e dopo qualche meetup abbiamo cominciato anche a organizzare la pizza e la birra dopo il meetup però i primi meetup sono stati veramente duri e puri e questo ci ha permesso di conoscere dei ragazzi che poi abbiamo anche assunto interessati all'argomento e nei meetup facciamo delle cose molto da nerd quindi facciamo vedere come si scrive del codice adesso nei prossimi faremo assemblare delle cose e così via facciamo del training questo invece è più rivolto alle aziende perché una cosa fondamentale per le aziende che fanno fatica ad accogliere queste tecnologie semplicemente perché non le conoscono e allora noi aiutiamo le aziende a prepararsi ad alcuni processi che per esempio si chiamano design thinking questo è un concetto nato negli anni 60 e viene adottato adesso in molti corsi noi non pretendiamo di fare design thinking non siamo qualificati per fare questo ma siamo quelli che possono dare le informazioni di base per partecipare al design thinking design thinking vuol dire capisci il tuo cliente inventati qualcosa di buono fai un prototipo provalo e mandalo sul mercato però per inventarsi qualcosa di buono bisogna anche capire che cosa la tecnologia mette a disposizione e noi facciamo il training proprio per questo e poi facciamo consulenza la consulenza è diciamo sono le tecnologie che sappiamo sviluppare noi che sono i pallocchi rossi che si incrociano con le necessità aziendali i pallocchi blu che stanno sopra sono le industrie quindi c'è l'automotive l'aerospaziale eccetera per darvi un'idea dove si incrocia l'occhio quindi la tecnologia di visione con l'automobile lì ci stanno i veicoli a guida autonoma dove si incrocia l'occhio con la fabbrica lì ci stanno per esempio i sistemi di supervisione della produzione e così via basati su telecamere dove si incrocia il cacciavite e la chiave con la fabbrica sono i sistemi di manutenzione predittiva più o meno in ognuno di questi incroci ci può essere un punto di attacco un punto di interesse dell'intelligenza artificiale poi se volete fare domande vado poi più nel dettaglio però per darvi un'idea queste sono tecnologie trasversali mi faccio vedere qualcosa che abbiamo fatto allora questo è un pdf quindi il video non si muove però questa è un'applicazione tipica riconoscimento delle immagini si fa con reti neurali che in realtà sono reti neurali profonde e permettono di riconoscere oggetti specifici se nei sistemi vecchi si poteva rilevare solo il movimento adesso io posso dire mi hanno segnalato a porta nuova una persona sospetta che porta uno zainetto rosso allora da tutte le telecamere fammi vedere solo quelli che portano uno zainetto rosso anche questo è uno sforzo che dovrebbe essere apprezzato perché ho rischiato di essere arrestato facendo foto e filmati con cavalletto nella stazione di porta nuova e non è facile spiegare a un poliziotto che ti servono queste cose per addestrare un algoritmo di intelligenza artificiale preferisce sparare prima il poliziotto un'altra cosa che abbiamo fatto è stata un sistema di traction control avanzato per Ferrari che adesso sta adottando ha sperimentato Porsche sta adottando BMW nelle competizioni lo sta sperimentando Lamborghini lo sta usando nelle competizioni fondamentalmente quando siamo arrivati da questi signori abbiamo raccontato quello che potevamo fare e loro ci hanno detto abbiamo una cosa per voi se vi piace tanto se ce la fate funziona vi paghiamo se no non vi paghiamo ho detto ok va bene tanto il punto di partenza l'avete visto prima quindi andava bene tutto e ci hanno detto beh allora immaginate questa situazione il calciatore di turno compra un'auto che pesa 1600 kg e ha 800 cavalli entra in curva vuole fare fumare le ruote come Fast and Furious e noi non vogliamo che si uccida perché si deve poi comprare l'automobile successiva in più non deve accorgersi che l'automobile a fare il lavoro vuole essere convinto di essere lui a fare la cosa e allora abbiamo fatto questo sistema ci siamo guardati intorno abbiamo visto che tante aziende aziende anche molto grandi come la Bosch per esempio era da anni che cercavano di fornire un sistema del genere ci siamo detti ma noi siamo quattro gatti non possiamo mica sperare di fare meglio della Bosch usando le stesse tecnologie era quello il punto allora usiamo qualcosa di diverso invece di approcciare la cosa con i metodi ingegneristici tradizionali che conoscevamo perché siamo ingegneri abbiamo provato con una rete neuronale con una configurazione speciale e siamo riusciti a fare la cosa in realtà i dirigenti di Ferrari non volevano adottare la cosa poi quando l'amministratore delegato ha fatto un giro di pista sulla macchina e gli hanno switchato il sistema ha detto questo lo voglio su tutta la serie delle auto e così iniziate la storia sistemi di preditti in maintenance e production forecasting cioè vuol dire quanta energia produrrà il nostro sistema oppure come faccio a ottimizzare l'energia questo è un altro campo molto interessante applicativo molto interessante i sistemi di controllo tradizionali sono immaginatevi che più o meno ad oggi con la tecnologia attuale si può fare tutto ma questo tipo di tecnologia è più generale impara impara come se fosse una persona quindi io non devo stare tutte le volte a regolare una manopoletta per far funzionare bene il sistema io gli dico cosa voglio ottenere cioè voglio mantenere 20 gradi all'interno di questo edificio e voglio consumare il meno possibile questi sistemi in particolare che si basano su una tecnologia che si chiama di reinforcement learning che è molto simile a quella che Google DeepMind ha usato per vincere ai videogiochi Atari oppure vincere AlphaGo queste cose qua adattata per questi sistemi qua permette di osservare il sistema osservare come evolve la temperatura e autoregolarsi in modo da consumare sempre di meno va bene e di applicazione ce ne sono tante ricordatevi la matrice potrei elencarvene ancora almeno una decina di cose che abbiamo realizzato però il punto è in questo momento stiamo lavorando su quella che si chiama intelligenza artificiale ristretta cioè sono delle cosine molto semplici ma che funzionano molto bene l'intelligenza artificiale quella della fantascienza che fa paura arriverà probabilmente tra 40 o 60 anni ma non è più compito mio raccontarvi di questa anche perché non la conosco spero però di avervi dato l'idea che almeno per il momento potrebbero esserci più opportunità che svantaggi dal nostro punto di vista vale però secondo me può valere per molti altri va bene se dovrà toglierci la paura ci è riuscito di sicuro e allora bisogna che Pietro ce la faccia tornare un attimo dai se volete parto io da una provocazione alla fine o adesso volete farle se le fate adesso rischiamo di non riuscire a chiudere se avete pazienza facciamo parlare Pietro Terna e alla fine fate tutte le domande che volete Pietro riesci a stare in un quarto d'ora sì? anche meno la sua specialità è essere sintetico allora butto lì una cosa a Pietro nei giorni scorsi molti giornali tra cui sicuramente la stampa di Torino e altri hanno parlato di un qualche cosa di scandalosamente potenzialmente l'esivo dei diritti dei lavoratori parlando dei famosi braccialetti elettronici di Amazon era una bufala nel senso che il braccialetto elettronico di cui si parlava era un un brevetto che Amazon aveva depositato per realizzare un sistema appunto di riconoscimento tra l'altro neanche di oggetti ma di codici quindi una cosa che penso sia abbastanza banale tutto sommato che poteva servire a rendere più maneggevole il rapporto tra trovo l'oggetto prendo l'oggetto sposto l'oggetto ma la reazione dei media e della pubblica opinione è stata oddio un modo per rendere schiavi i lavoratori di quell'azienda così come si dice spesso parlando di intelligenza artificiale oddio un modo per distruggere posti di lavoro dove sta la prospettiva reale Pietro? io sono il più vecchio da questa parte del tavolo e quindi mi consentite anche di essere molto radicale il cambiamento è grosso sta arrivando forse sta arrivando molto in fretta e dobbiamo prepararci rispondo subito a una delle tue domande con una risposta sindacale e non scientifica Amazon manca di cultura sindacale ed è un tema importantissimo avere cultura sindacale vuol dire l'industria ha sempre avuto una cultura sindacale dall'altra parte i sindacati dei lavoratori erano i depositari della cultura sindacale vuol dire saper dialogare e saper guardare al di là del brancialetto elettronico la gestione di quello sciopero di cos'era non mi ricordo più di Natale qualcosa del genere è stata il manuale di quello che non si deve fare quindi questo c'è un problema della crescita di aziende non di 25 o 20 appassionati matti che alla sera devi mandare a casa se no probabilmente non escono dall'ufficio ma un'azienda di migliaia di persone solo in Italia e nel mondo non riesco a immaginare quanti sono per adesso perché qui non l'ho messo ma se guardate il filmino dei magazzini di Amazon è un passo prima del non avere più laboratori c'è tra l'altro un'imbarazzante cosa che le gabbie gialle quelle che devono delimitare i robot invece di chiudere i robot chiudono i lavoratori è un po' imbarazzante perché siccome il robottino deve poter andare in giro non si può chiuderlo in uno spazio e allora la gabbia è a protezione però l'effetto è un po' imbarazzante e l'ultimo pezzo che puoi mettere nello scatolone l'etichetta eccetera eccetera tra un po' lo automatizzano e quello vuol dire sparizione di migliaia di posti di lavoro nel commercio perché quelle che spariscono non sono le professioni di alto livello culturale ma le professioni in cui una macchinetta esagera un po' può fare un po' la stessa cosa intelligenza artificiale punto interrogativo perché voi avete chiarito molto bene che cos'è quindi adesso non devo più parlarne lavoro e lo sappiamo tutti cos'è lavoro ne abbiamo paura io vivo di barzallette guardate questa questo è un autore di una serie che si chiama non sequitur devo mettermi qua perché anche non sequitur che è l'opposto di sequitur quel signore sarei io in pensione vedete e Bob e Bob si è dimenticato dove ha lasciato il telecomando e allora dice Alexa che sarebbe quella di Amazon se non sbaglio aiutatemi è vero Alexa è di Amazon e l'ho lasciato e dice ma nel garage e a quel punto si sveglia il telefono che invece è un Apple e dice ciao Alexa Siri è di Apple sì Siri è di Apple di Apple ciao Alexa sono Siri cominciano a chiacchierare hai notato che credono a tutto quello che diciamo sì lo vedo è chiaro Kindra vuol dire come se potessimo fare pensare di non aver più bisogno di loro che saremmo noi e se ovviamente io posso controllare tutto elettronicamente e io ho i codici di lancio vuol dire che un qualche pazzo li ha memorizzati dentro al telefonino colleghiamoci come Bob ha lanciato l'apocalisse è paradossale ma gli umoristi sono lo specchio dei tempi non quello della stampa di Torino l'umorista riesce ad anticipare con la sua ironia le paure i sentimenti profondi vi farò vedere un altro umorismo molto importante su cose recenti balzo indietro 26 febbraio 28 la crisi non era ancora cominciata ma questo è il New York Times notate la grafica come è cambiata nel mondo il New York Times pubblica una famosissima pagina che March of the Machine makes idle hands crea la disoccupazione molti dicono beh questa è la prova che non succederà niente quella cosa lì non ha avuto effetto e quindi è un déjà vu ho assistito ad un dibattito che mi ha molto imbarazzato tra un importante sindacalista non faccio il nome e un importante rappresentante industriale non faccio il nome neanche sotto torture una signora del pubblico che magari c'è stasera io non vedo bene dice ma avete parlato di cose molto interessanti integrazione migranti e nazionali insomma molto bello con tanti dati ma nessuno di voi ha parlato di intelligenza artificiale automazione e anche stamattina c'erano due pagine su Repubblica e dice signora non lega Repubblica come dire questi problemi non esistono non possiamo nasconderli o facciamo come Enrico Busto che crea posti di lavoro nel nuovo settore e fa cose che migliorano in sostanza la vita oppure abbiamo consapevolezza che il problema è enorme andatevi a vedere questo link qua adesso non voglio perdere tempo andatevelo a vedere tanto Ismail mette tutto online giusto? no chiede una domanda quindi queste slide sì ma l'importante è poter cliccare su quel indirizzo una volta che è online c'è una tabella di tantissime nuove professioni dietro le quali spariscono professioni e fin qui va bene il solito cambiamento ma dietro le quali spariscono anche posti di lavoro ma io sono più radicale e dico che il grande cambiamento l'ha già detto Enrico Busto un attimo fa è che lavoriamo su insegnare le macchine ad apprendere e questo è il cambiamento drastico può farci molto bene se non sappiamo gestirlo può farci molto male e a chi toccherà gestirlo lo diciamo poi alla fine già citato gli esperimenti di AlphaGo e poi AlphaZero a imparare un gioco difficilissimo che è il Go che si riteneva non fosse programmabile in sostanza e poi imparare gli scacchi e a Go non è stato programmato gli è stato via via insegnato ad imparare questo è molto bello per chi conosce un po' il Go dopo tre ore è un dilettante bravino dopo 19 ore è un buon giocatore di autoapprendimento e dopo 70 ore è un mostro cioè a questo punto giocare come gioca sta macchina dopo 70 ore non ce n'è anche il più bravo qui i campioni sono tutti coreani cinesi giapponesi non ce n'è anche il più bravo di loro che è in grado di affrontare questa macchina per gli scacchi è successa la stessa cosa qui questa slide è divertente perché è chess zero che sta giocando contro se stesso perché l'idea proprio è gioca tantissimo e ad un certo punto con il reinforcement learning butta via le scelte che non sono state buone e tiene quelle che sono state buone la potenza di calcolo ed evocata da Dario De Jaco prima è fondamentale perché non so perché gioca 800 partite e non 1700 comunque nel paper che è in archive e spiega tutto come è fatto cioè questo è il cambiamento gigantesco spiegano che durante la partita di fronte a ogni mossa gioca 800 partite fino alla fine e poi su base statistica fa la mossa su cui in quelle 800 partite gli è andata meglio ho ragionato insieme a un collega economista ma economista con queste curiosità che cosa vuol dire applicare lo stesso criterio su un sistema giuridico è stato evocato prima il massimario della corte di cassazione anch'io ci avevo lavorato su quella cosa lì eravamo tutti bambini e beh il tempo passa e era stata un'avventura straordinaria le macchine facevano poco in quel momento e quindi bisognava surrogare tantissimo adesso le macchine fanno tanto bisogna surrogare tanto un'obiezione che mi hanno già fatto è ma le leggi sono confuse benissimo se la macchina ci spiega dove sono confuse è fantastico ci lavoriamo a renderle meno confuse tra l'altro io credo nei giovani recentemente avrete forse letto 40 giovani precari della pubblica amministrazione hanno messo online le leggi italiane dal 1861 quindi non è più vero che non sappiamo quante sono le norme sono tutte lì dopo 20 anni che i ministeri si palleggiavano le responsabilità io lo faccio tu lo fai io ti bricotto perché se no mi passi davanti questi 40 che poi saranno licenziati molto presto spero di no hanno fatto la magia le macchine diventano anche l'intelligenza artificiale diventa anche i robot vi faccio vedere questo solo perché poi vi mostro la solita barzelletta questo è l'ultimo filmino che trovate in youtube spero che funzioni non è partito se no ve lo racconto e lo guardate poi voi non parte e va bene e va bene non importa questo link vale sempre il principio di prima quando sarà online lo guardate ed è molto divertente cosa succede? ma inquieta arriva un robot a quattro zampe che è più facile da costruire che un bipede trova la porta chiusa e ci resta male fa qualche passo indietro ne arriva un altro che ha un braccio sul patesta gli apre si sposta lo fa passare e poi passa anche lui è un'operazione fluidissima qui si sono il giorno dopo hanno risposto questi qua il giorno dopo questo è un gruppo di umoristi che si nasconde dietro al nome xkcd cercatelo xkcd è facile da trovare cosa dicono cos'è xkcd giocano a fare i matematici matti e un punto nello spazio delle stringhe insomma giocano poi anche un'altra interpretazione allora questi sono i due personaggi quasi sempre dialoganti hai visto ieri che è uscito il nuovo film di Boston Dynamics è divertente e gli umani vedono un robot che apre una porta e istantaneamente immaginano di essere in pericolo e poi va avanti non ha senso semmai sono i robot che devono temere di essere in pericolo e certo reagire violentemente è una caratteristica degli umani no ma forse anche sto parlando di un'altra specie se ci pensate è una bella riflessione ma quello che è più importante è quello che c'è scritto sotto Don't be near us non avevate paura dei robot abbiate paura delle persone che hanno le risorse per costruirli e adesso passo in politica ma no vi voglio far vedere una bella cosa a Torino col Politecnico stanno costruendo un meraviglioso esoscheletro per insegnare a camminare ai cerebolesi incidenti soprattutto persone che hanno avuto incidenti e funziona molto bene man mano che vanno avanti articola sempre di più i movimenti e la persona che viene guidata accelera moltissimo la fase di recupero quindi il robot anche questo è un robot perché ha intelligenza dentro e io ho bloccato la macchina no dietro tutto questo quali certezze? nessuna però forse una che non possiamo rinunciare alla scienza questo è di nuovo l'autore di Non sequitore vedete le due strade una strada che è quella della scienza che è complicata lunga tortuosa complessa l'altra che è semplice ma cascano tutti giù dal burrone ed è sbagliata stiamo molto cascando giù dal burrone in questo momento e la scienza deve fare la sua parte e insieme la sua parte qui siamo in un ambiente politico la deve fare la politica la politica che deve assolutamente affrontare questi temi vendendoli nelle loro conseguenze del futuro nessuno ha la capacità di decidere ma tutti abbiamo la capacità di indirizzare e poi scherziamoci su un momento se alla fine ci sarà poco lavoro ma Paolino Paperino è da sempre che lo dice che lui anticipa soltanto il futuro quando non si lavorerà mai più e un signore più importante di Paolino Paperino che è Keynes disse nel 1930 e con questo mi avvio a concludere in piena crisi che i suoi pronipoti che sarebbero i miei nipoti forse i miei pronipoti è difficile non importa è complicatissimo avrebbero lavorato solo più 10-15 ore alla settimana se noi ragioniamo in questi termini è una prospettiva che non mi spaventa per nulla io ho 74 anni quando ho iniziato a lavorare si lavorano normalmente 44 ore alla settimana adesso tanta gente vedete loro lavorano 35 ore alla settimana o 32 l'ultimo accordo del Baden-Württemberg prevede che per un periodo limitato di due anni si lavorino 28 ore alla settimana poi ci sono invece i mestieri che io chiamo lavoro piacere i tuoi trovano piacere per quel lavoro ci si divertono l'hai messo nella seconda slide quella è la vostra forza quella è la vostra forza ma tantissima gente mio figlio ha una cosa molto più piccola della tua ma i suoi matti sono nella stessa condizione cioè si appassionano talmente a quel lavoro che è creativo ma il mio lavoro io ho fatto lo studioso nella vita è stato sempre bellissimo poi ho fatto anche il mediatore perso e il mediatore è più complicato da molta soddisfazione ma è un lavoro di stress pazzesco se dividiamo il lavoro mediatore diciamo sindacale se dividiamo il lavoro maledizione dal lavoro piacere e speriamo che il lavoro maledizione se ne vada se volete approfondire c'è un meraviglioso numero di nature che è open cioè l'interessante è tutto open questa serie di articoli sono moltissimi e dopo che avete letto questi articoli che sono contrastanti vanno nelle due direzioni vi sarete formati la vostra idea ma mettiamo tutto online comunque questo è facile da copiare basta che sentiamo su Google The Future of Work ed è ottobre 2018 17 questo è quanto se volete poi dialogare con me scrivetemi io sono sempre a disposizione per tutto no questo è falso non è vero che questi slide sono online l'ultimo è sbagliato abbiate pazienza cancello fine grazie cancello subito allora paura o speranza? chi vuole intervenire? c'è qualcuno che può portare chi vuole il microfono? prego grazie io volevo chiedere non so se è ancora con noi il signore del CSI eccolo perché ero qui munito di computer e ne ho approfittato per dare un'occhiata al suo ultimo progetto che ha citato su AdBot e visto che lei ha parlato di privacy e trasparenza ho notato che in realtà il bot si interfaccia tramite Facebook quindi volevo capire quali erano le ragioni di questa scelta se fosse stata necessaria se potenzialmente invece si potesse evitare di passare per comunque l'interfaccia di una multinazionale privata ecco e inoltre volevo fare anche una piccola nota critica nei confronti del signore di Adfor ingegnere scusi cui nutro un grande rispetto anche per la sua storia personale però essendo venuto appunto nella mia facoltà di fisica a sponsorizzare la sua azienda giusto proporre tesi mi sono anche documentato per vedere appunto le offerte di tesi che proponevate e ho visto che ci sono progetti molto interessanti di durata tra l'altro fra 6-8 mesi però in realtà ho notato che non c'era scritto nessuna proposta di compenso ecco quindi volevo capire se è stata una vostra mancanza se invece magari anche voi se mi consente la provocazione difettate di cultura sindacale perché si tratta comunque sempre di un lavoro che noi studenti dovremmo fare per un'azienda privata quindi magari accresce il vostro valore quindi forse dovrebbe essere riconosciuto ecco io non la chiamerei in questo caso proposta di tesi ma forse sfruttamento però questa forse è una provocazione quindi può anche lasciarla correre grazie certamente grazie si comincio a rispondere io sul tema edisubot sì la richiesta la richiesta è partita dal nostro cliente in questo caso edisub perché loro hanno sostanzialmente l'utenza collegata al loro portale di riferimento che non è un portale esterno ma è di fatto facebook quindi è stato automatico come primo lancio a utilizzare diciamo la popolazione che era già presente su facebook che agganciare il sistema di messaging messagger appunto l'idea a tendere però ci vorrà un po' di tempo è quello di utilizzare un'identità riconosciuta a livello nazionale che è quella di speed sostanzialmente però la diffusione di speed non è così immediata speed sapete il sistema pubblico di identità digitale è avviato da qualche tempo ma i servizi non sono ancora disponibili soprattutto le credenziali non sono così diffuse quindi sì concordo ma è stata un'operazione diciamo mirata ad avere il servizio subito in attesa di un servizio più integrato con i sistemi nazionali di identità grazie della domanda allora intanto io sono abituato normalmente a parlare in ambienti più tecnici quindi non sono abituato a queste gentili aggressioni da parte del pubblico comunque la risposta è molto semplice ed è una cosa che ci eravamo già posti noi perché vogliamo cercare di essere sempre molto equilibrati le tesi non si pagano mai perché sono un lavoro richiesto allo studente per arrivare al compimento di un ciclo di studi però non si pagano in termini di salario quello che è il nostro impegno per quanto riguarda le tesi avviene sotto diversi aspetti il primo aspetto è che noi vogliamo sempre garantire allo studente delle tesi diciamo scientificamente interessanti poi diamo allo studente la possibilità anzi non diamo la possibilità ma per tutti gli studenti avviene che vengono integrati con il nostro team quindi vengono seguiti molto assiduamente noi non facciamo fare fotocopie al nostro interno facciamo imparare delle cose importanti ci interfacciamo con i professori andiamo a discutere la tesi quando ce lo consentono direttamente in università e cerchiamo fino a quando è possibile fino all'ultimo di raggiungere il massimo dei punti della tesi cerchiamo di fare produrre allo studente qualcosa di molto importante e significativo per lui farlo imparare e farlo raggiungere al massimo dei punti della tesi alcuni degli studenti qualcuno che arriva dalla vostra facoltà è stato assunto il giorno dopo aver discusso la tesi questo è quello che facciamo non so se ci sono delle altre aziende che pagano per far fare la tesi allo studente dal nostro punto di vista questo non è sfruttamento però se tu lo ritieni sfruttamento puoi anche startene a casa per noi va benissimo lo stesso ok altre domande no non gliela lancio buongiorno volevo fare una domanda sulle prospettive nei prossimi due o tre anni sull'intelligenza artificiale applicata alla nostra vita in particolare mi riferisco alla guida autonoma visto che se ne parla ormai da anni e che diverse aziende automobilistiche dicono che sono molto vicine addirittura già al livello 5 è molto curioso vedere una stasi in questo momento a livello 2 e vedere che qualcuno sta per lanciare il livello 3 come ha annunciato Audi per esempio Tesla ha rallentato gli aggiornamenti e quindi è come giocare una partita a poker anzi a scala 40 dove uno si tiene tutto in mano noi non sappiamo che cosa hanno in mano perché non lavorando in queste aziende e magari anche chi ci lavora non sa a che punto tutto il lavoro complessivo sia arrivato però volevo avere la vostra opinione e poi un'impressione io da consumatore io ho l'impressione che tante novità non vengano date perché è controproducente per chi vende dei prodotti se io do un prodotto che funziona bene che si aggiorna da solo non ne vendo più altri quindi è la stessa filosofia che ha adottato Microsoft in decenni cioè venderti dei programmi che hanno già dei bug così tu devi comprare l'aggiornamento e l'aggiornamento diventa sempre più lento poi devi comprare un nuovo computer lo stesso fanno i costruttori di auto fanno i costruttori di qualunque oggetto quindi io ho l'impressione che ci sia un desiderio delle grandi multinazionali di rallentare su quel fronte perché a loro poi non conviene più a un certo punto uno diventa autonomo uno si produce l'energia con i pannelli solari poi la accumula in delle batterie evolute che magari dureranno 20-30-50 anni poi avrà una macchina che gli risolve un sacco di problemi e non deve andare negli uffici eccetera a un certo punto lo Stato non riesce più ad avere un controllo sui cittadini non gli conviene più grazie quindi ricapitolo guida autonoma ero distratto per la parte di veicoli autonomi è vero che si sta ancora lavorando molto penso che sia soprattutto una questione di normative nel momento in cui le normative lo consentiranno probabilmente la guida autonoma di un veicolo sarà meno pericolosa della guida umana noi ci lavoriamo con questo anche Microsoft che è venuta scusate Intel che è venuta ci ha parlato molto di questo le considerazioni sono abbastanza vaste però io non avrei molto paura dell'intelligenza artificiale da questo punto di vista però anche se Pietro mi ha chiesto di non farvi paura in effetti ci sono degli altri aspetti che potrebbero essere molto più significativi cioè la guida autonoma non è pericolosa perché vi farà schiantare contro un albero è pericolosa perché farà perdere il lavoro a tutti i camionisti e a tutti gli autisti di autobus e questo sì questo sarà un impatto molto forte sul mercato e direi che per quanto riguarda l'intelligenza artificiale forse ci sarebbero degli altri aspetti di cui avere molto timore cioè la modellazione dei vostri sentimenti qualche anno fa parlavo con un ingegnere di Google e gli dicevo certo che state lavorando molto per capire che cosa le persone cercano lui mi diceva no non voglio capire cosa cercano le persone voglio capire cosa vogliono voglio sapere ciò che cercano prima ancora che lo facciano voglio avere un modello della persona Google ha mille occhi e mille orecchie e così Amazon e tutti gli altri stanno qui dentro e raccolgono informazioni e quello che vediamo è solo l'inizio secondo me il territorio di caccia ideale dell'intelligenza artificiale nei prossimi anni saranno i social network i social network hanno modificato la società attuale perché hanno creato una sorta di dipendenza nel momento in cui riuscite a mettere l'intelligenza artificiale all'interno dei social network riuscite a fare un sacco di soldi perché riuscite a stimolare la dopamina degli uomini nel modo più opportuno per creare denaro volete rispondere alla seconda no no credo che posso raggiungo anche io sì sì queste considerazioni sono molto interessanti c'è un altro aspetto per quanto riguarda la guida autonoma non se ne è parlato lo accenno soltanto che frena ancora un po' la questione ed è un problema che è relativo alla responsabilità cioè un sistema autonomo che compia un errore e a causa di quell'errore provochi un danno un danno banale voglio dire e schiaccia un piede di chi è la colpa questo è un argomento che è in grande discussione in questo momento perché banalmente si può dire la colpa è del programmatore che l'ha costruito e vabbè e questo per gli artefatti normali è vero ma quando il sistema aggiorna se stesso ed è in grado di evolvere in modo indipendente dal suo programmatore la cosa diventa un pochino più complicata allora è chiaro che bisogna metterci tutti i lacci e i laccioli del caso però è un argomento di grande complessità su cui molti stanno discutendo su cui io non sono un giurista quindi non mi avventuro assolutamente però so che è una questione piuttosto dibattuta che frena ovviamente la possibilità di fare Tesla la macchina che va da sola ce l'ha già ma il problema è che se va a scontrarsi col codice penale non va a dire fuori ovviamente la domanda che l'ultimo intervento ha posto richiama fortemente la mia conclusione mi permetto di sottolinearlo e cioè questo è veramente un campo nuovo per la politica ed è un campo nuovo per la scienza ma la politica prima di tutto che deve saper capire questi problemi e proporci delle soluzioni a livello a tutte le scale perché non basta che decidiamo a San Marino cosa vogliamo chiaramente e neanche in Italia frenare è sempre inutile tanto qualcun altro andrà avanti però equilibrare e ragionare i filosofi hanno molto da dire su queste cose infinito da dire e quindi invito Ismael a chiamare un filosofo la prossima volta a parlare delle stesse cose buonasera a tutti io attualmente sono pensionato ma nella mia vita precedente facevo il professore di robotica al Politecnico e un mese fa circa è stato invitato un filosofo a parlare di robotica e etica l'etica applicata alla robotica questo è un ricercatore dell'Università di Torino che si occupa di etica sotto vari aspetti e si occupa di ci ha parlato dell'etica legata ai robot l'intelligenza artificiale e robotica sono i due grandi temi che fanno paura perché da una parte l'intelligenza artificiale è qualcosa che sta nella nuvola negli algoritmi la robotica invece agisce sulla fisicità delle cose muove degli oggetti questi fanno attività fisica allora senza stare lì a menarla tanto in lungo mi viene da chiedere è possibile inserire all'interno di sistemi di intelligenza artificiale dei cosiddetti filtri etici che non sono soltanto le tre leggi della robotica di Asimov perché quelle vabbè che non sono soltanto quelle cose che si pensano per i droni militari o le mitragliatrici autonome poste ai confini della Corea tra la Corea del Sud e la Corea del Sud no quelle cose lì ovviamente fanno generare dei problemi che sono molto importanti no io lascio da parte queste cose mi piacerebbe capire se è possibile da un punto di vista probabilmente di deep neural networks inserire qualche cosa che renda il comportamento di alcuni prodotti non di certe cose non è sensato mettere un filtro etico ma mettere dei filtri etici su queste macchine queste intelligenze artificiali grazie io suggerisco una cosa se siete d'accordo io porto il microfono fate le domande e poi rispondono a tutte le domande insieme perché se no mi sa che rimaniamo in pochi prego salve a me è piaciuto molto quello che ha detto a me è piaciuto molto quello che ha detto salve a me è piaciuto molto quello che ha detto il professor Terna sul fatto che gli scienziati debbano la scienza debba intervenire in questo dibattito e come persona che si vorrebbe occupare di queste cose e come persona giovane diciamo vorrei chiedervi in particolare cosa pensate che uno scienziato possa fare quanto debba partecipare nel dibattito politico quanto la comunicazione scientifica e la capacità di parlare ai non tecnici diventerà una abilità importante per un esperto di intelligenza artificiale volevo proprio i vostri due centesimi diciamo sulla questione se è possibile la mia domanda è molto simile è proprio in base al discorso che la politica si debba assumere un po' le responsabilità appena conclusa la campagna elettorale e questi temi si sono visti poco mi chiedevo la politica quanto è distante ancora da insomma da prendersi carico di questi argomenti e perché e quanto un po' riferendosi a quello che ha chiesto lei manca il dialogo proprio con c'è un'intermediazione tra il mondo della scienza e il mondo della politica che è ancora un po' arcaica a mio parere su certi temi da ex politico tantissimo perché quelli più intelligenti capiscono che si perdono voti a dire cose ragionevoli su questi temi secondo me questa è la mia opinione ad esempio prego sì io volevo fare un ragionamento sempre sulla politica e fare una domanda che riguarda al di là dell'immediato diciamo del domani che poi è già qui come si dice mi pare di capire che la generazione di politici attuali non ha interiorizzato non tanto le informazioni quanto non ha interiorizzato il vero cambiamento di paradigma che non è solo tecnologico ma è sociale e politico evidentemente ma anche di comunicazione sono persone che si avvalgono di consulenti che forniscono le loro consulenze ma forse faticano a far filtrare questo che è una cosa molto profonda deep learning e mi sembra che questa cosa proprio non ci sia voi che ne sapete più di me penso per esempio a un Putin che invece il paradigma l'ha interiorizzato e la strategia del suo paese nell'ambito dell'info war è di un'altra caratura e quindi la difesa a quello è attualmente molto scarna mi pare di capire secondo voi dobbiamo aspettare una generazione nuova o questa comprensione può passare da chi sa a chi è attualmente a decidere e non sa e se può passare in che sedi altre domande allora passiamo alle risposte aggiungo una considerazione del tutto scherzosa ma non tanto io ho visto negli Stati Uniti un mucchio di studi che spiegano l'applicabilità ai robot delle leggi sul schiavismo vengono ripescate un mucchio di vecchie leggi del 1800 anche dell'epoca romana ma lì allora visto che Pietro Terna ha detto che questo l'ambiente in cui stiamo svolgendo questo dibattito è un ambiente politico intendeva il senso più filosofico del termine immagino è un ambiente in cui si discute di politica di società di economia e di queste tre cose coniugate insieme io mi permetto di fare una micro osservazione alle domande che avevano questo tenore cioè i politici che cosa fanno i politici non sono una roba generica sono una fetta della classe dirigente che noi eleggiamo di volta in volta perché ci guidino e legiferino e quindi credo che l'ignoranza che è ampiamente diffusa nella società trovi elezione all'interno di questa di questa categoria che noi di cui noi non testiamo quasi mai la competenza no? ci sono altri criteri che ci fanno scegliere in un senso o in un altro poi è la realtà che li fa confrontare con i problemi che eventualmente esplodono o diventano tensioni sociali in questo momento ho l'impressione che la politica si come dire si limiti a come dire assumere le paure di cui abbiamo accennato prima come dei fatti irresistibili a cui si risponde con gli strumenti della paura cioè con dare credito a ciò che spaventa invece che ragionare su quello che ci sta dietro è un fatto culturale forse il ruolo di corpi molto molto intermedi come sono i luoghi di cultura a cui noi prestiamo servizio può dare un po' una mano a chi ha voglia di ascoltare e dal punto di vista dei cittadini forse dobbiamo essere capaci di scegliere un pelino meglio comunque lascio a tutti gli altri interlocutori di rispondere agli aspetti che tengono sì volevo dire solamente una cosa rapidissima sulla questione dei filtri etici che è stata posta prima che è una questione cruciale sostanzialmente c'è un problema di fondo però che bisognerebbe cercare di capire per prima di formalizzarli e trasformarli poi in strumenti di che diavolo stiamo parlando quando parliamo di filtri etici perché ci riferiamo a cosa al comportamento umano quale di umani ce ne sono di vari tipi nelle teste degli umani succedono un sacco di cose succedono cose che nel tempo ti fanno comportare in modo diverso quindi un filtro etico dipende dal punto di vista perché per esempio sulle ultime elezioni avrei ambito ad un filtro etico ma questa è un'opinione del tutto personale che non può diventare ovviamente una legge le tre leggi della robotica erano abbastanza astratte da poter essere come dire in qualche modo poi sono state anche smontate in qualche maniera nel tempo seguente e poi sono cose degli anni 60 cioè di un certo numero di trimestri fa adesso dovremmo cercare di affrontare il problema forse con qualche altro approccio ecco non mi infilerei sul filone etico perché poi si finisce nella morale si finisce nella nella religione si finisce si va a finire poi sul problema di fondo sulla storia della paura che oltre al golem da una parte e dall'altra parte è l'ambizione di somigliare a Dio perché io costruisco una macchina intelligente e chi sono io eh per dire cioè ci infiliamo in una tragedia sostanzialmente ebbè sì il problema della controllabilità dei sistemi è forse uno dei problemi più gravi in assoluto anche perché ci sono diversi studi e nessun modo dà la garanzia di riuscire a controllare il sistema per esempio immaginate confinamento non parliamo di robot ma parliamo di un'intelligenza artificiale che stia dentro un computer ok se quell'intelligenza diventa abbastanza potente come facciamo ad essere sicuri che quel computer non impari per esempio a giocare in borsa e non mi corrompa versandomi 20 milioni di euro sul mio conto e mi chieda di fare qualcosa per lui non riesco a fare il confinamento e così tutti gli altri modi quando le macchine diventano molto complesse possono essere un problema per esempio anche per quanto riguarda il linguaggio riprendendo la vignetta di Siri e di Alexa prima Facebook ha interrotto un esperimento dove faceva un apprendimento automatico del linguaggio visto che Facebook è interessato ai neologismi aveva fatto delle macchine in grado di creare delle nuove parole e per rendere più veloce l'apprendimento le aveva fatte parlare fra di loro il problema è che dopo pochi minuti sviluppavano un linguaggio che i programmatori non capivano più quante belle domande e anche difficili c'è lavoro per i giuristi e per i filosofi rispondendo a te molto caso per caso cioè non credo che in interpretare quello che si ha detto Enrico Busto il non caso per caso ad hoc ma caso per caso per categorie di problemi e per esempio su quello della guida autonoma ci sono problemi di responsabilità e problemi di scelta ma nei problemi di scelta si può programmare che la macchina non si metta mai nella condizione di dover scegliere non è facilissimo ma ci si può lavorare vi segnalo questo filosofo che si chiama Floridi che lavora molto su queste cose la sua risposta è leggiamo il diritto romano se lo schiavo produceva un danno la colpa era del padrone dello schiavo punto e questa è una possibile scelta vale ancora oggi? non lo so il Parlamento Europeo in questo caso in un momento alto della politica quando dico politica dico proprio arte della scelta della cultura della scelta sta lavorando su questi temi ci sono delle raccomandazioni per adesso solo di affrontare questa problematica alla fine un filosofo del diritto può immaginare che ci sia un nuovo tipo di personalità che è la personalità eletronica non so come chiamarla ma possiamo guardate che bisogna ragionare su scale completamente nuove se usiamo categorie vecchie non ne usciamo la politica e i giovani sono intervenuti due tre giovani sì tre hanno parlato poi ce ne sono altri evviva è tutta colpa vostra carino eh perché è tutta colpa vostra perché i partiti colgono i segnali che arrivano dalla società e se non gli Giovanni Ferreo è uscito non è là se non gli conviene non li vedono ma se tanti giovani lavorano su questi temi sono visibili e i partiti devono rispondere a chi è visibile e i giovani che secondo me sono sempre migliori col passare del tempo non è piageria io faccio l'insegnante da sempre quindi posso fare i confronti hanno la cultura per fare il seme della discussione purtroppo cominciando da casa mia io ho tanti nipoti la passione per la politica è bassissima i giovani hanno grande passione per il volontariato non sono lontani dai problemi sociali assolutamente ma la passione per la politica è bassa se volete trovate dei vecchietti come me e metteteli al vostro servizio ma costruite voi delle azioni di tipo politico per richiamare l'attenzione su queste cose non è rigettare la palla ma ogni altra soluzione secondo me in questo momento non può funzionare nell'etica c'è anche il problema delle tesi io sono un vecchio professore e rispondo sul problema della tesi allora molte volte mi sono capitati proposte di lavorare con dei tesisti nelle aziende la mia prima attenzione non parlo di Adfor è che l'azienda non si stia comprando la mia competenza mia gratis non lo faccio perché io sia attaccato al denaro non mi dispiace il denaro ma l'inganno non mi piace mai il secondo punto è che l'azienda abbia da insegnare al giovane possibilmente delle cose che io comprendo ma non sarei capace di insegnargli perché non ho l'applicazione sotto mano e poi che l'azienda sia molto capace a distinguere fino a che punto arriva il lavoro di tesi e da che punto inizia il lavoro aziendale quella è una distinzione fondamentale se io non mi rendo conto che l'azienda non lo so fare io non appoggio la candidatura del tesista e alla fine il giudice sono sempre io quindi sento con Enrico che vuole dare il punteggio lui il punteggio lo do io sono cattivissimo se non ci sono altre domande o altre risposte potremmo considerare chiusa questa interessantissima iniziativa questa interessantissima serata sperando di ritrovarvi al prossimo appuntamento altrettanto come dire agguerriti e interessati grazie per chi è interessato il 21 presentiamo un libro che si intitola inventare il futuro e che si occupa di questi temi proprio dal punto di vista diciamo di una politica possibile quindi ai ragazzi che hanno posto queste questioni raccomando di ritornare qui a inventare il futuro con noi cercate sulla pagina facebook del polo del 900 o dell'istituto Gramsci lo troverete